Ueeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, sfide spray di questa Season 10 di Fortnite. Dobbiamo utilizzare uno spray sopra una fontana, una gru e un distributore. La fontana ragazzi si trova proprio ai grandi magazzini, quindi ci avviciniamo, prendiamo il primo spray che ci capita, lo usiamo e la fontana è fatta. Per la gru invece dobbiamo raggiungere Crocevia del Ciarpame e molto semplicemente avvicinarci a questa, quella più grande di gru che può raccogliere il metallo. Ci avviciniamo, un bello spray ragazzi, gru fatta! Basta semplicemente proseguire più avanti, se dovessimo essere fortunati a trovare il distributore lo potremmo tranquillamente pittare in modo da farlo, ma vi ricordo ce n'è uno anche a Montagnole Maledette, potrebbe essercene un altro invece vicino a Parco Pacifico o altrimenti dovrete raggiungere le fabbriche di sponde del saccheggio o anche il campo da calcio. Insomma ragazzi un sacco di location, vi ricordo che trovate tutta la playlist nella home page del canale con tutte le sfide in modo da poterle completare. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, noi ci vediamo in live, ciao! 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 Ciao!